Buongiorno ragazzi, non è passato molto tempo da quando vi abbiamo presentato le nuove Canyon, anzi Grand Canyon On, Strive On e Torque On. Oggi invece è il momento di andarvi a presentare la nuova Neuron On, ovvero la e-mountain bike da trail del marchio tedesco. Andiamo a fare il primo setting, muoviamo le prime pedalate e ci vediamo tra poco per quello che sono le primissime impressioni. Andiamo! Primo seguito Il segmento guidato in salita, per ora piuttosto veloce ma già so che più avanti si farà più ripido, più insidioso. Devo dire che innanzitutto la potenza offerta dal motore, come ci ha abituato Bosch, è chiaramente più che sufficiente, anzi direi abbondante. Mi trovo in modalità e-mountain bike che mi sta permettendo appunto di adeguare la spinta del motore a quello che è la mia spinta sui pedali. Ma veniamo al comportamento dinamico, la reattività offerta dalla nuova Neuron On è chiaramente quella tipica di una e-mountain bike da trail. Quindi posteriore, bello sostenuto, anche a sospensione aperta. Fino ad ora non ho avvertito mai la necessità di chiudere l'ammortizzatore posteriore. E avantreno davvero incisivo, preciso, molto guidabile e almeno per ora non ho mai avvertito improvvisi alleggerimenti della zona anteriore della bici. E' giù in discesa per Pitchy Swoops, uno dei sentieri più famosi del lato canyon. di massa marittima, la bici è davvero, davvero il massimo del divertimento ragazzi. E' agile, reattiva, direi persino esplosiva. Mantini stretti. Ragazzi ma quanto è divertente questa Neuron On, poi su questo che sembra un sentiero disegnato apposta per lei. E arriva un po' lo scassatino. Veramente ragazzi, sono con un sorriso davvero davvero ampio in sello a questa bici. E' spettacolare, reattiva il giusto ma anche stabile su questi ratti un po' più veloci. Questa bici offre anche un ottimo equilibrio tra triangolo anteriore e misura del carro. Davvero ben equilibrata. Le sensazioni trasmesse dalla ruota posteriore non sono mai brusche, mai imprevedibili. E' veramente una bici molto molto equilibrata e soprattutto prevedibile. Non avete idea di come mi sto divertendo su questo sentiero ragazzi. Veramente uno spettacolo. It's very fast. Ed eccoci qua a quello che dovrebbe essere l'ultimo trasferimento prima del tanto atteso pranzo. E riflettevo su un dettaglio. La scheda tecnica di questa Neuronon CF8 indica come peso 22 tiri e mezzo, se non ricordo male. Ma questa bici da guidare in realtà sembra molto più leggera. Tanto più leggera anche da azzardare magari un paragone con i mountain bike light. Perché? Beh questo forse è sintomo di un ottimo equilibrio geometrico che le consente appunto un dinamismo davvero davvero eccellente. Quindi ecco questo era un piccolo approfondimento che volevo condividere con voi. Proseguiamo il nostro test. E finalmente siamo arrivati nel famoso canyon di massa marittima. Uno dei sentieri più flow. Sicuramente ottimo per goderci a pieno questa Neuronon. Wow! 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 ragazzi è una goduria portare questa bici all'interno di questo canale così profondo scavato ma assolutamente amabile guidato davvero uno sballo ed è il momento di spaghetti una salita che ben conosco e quindi posso anche riesco a paragonare la neuronon magari ad altre bici che ho portato su questo sentiero per ora si sta dimostrando estremamente agile come già vi ho detto prima giocosa all'anteriore si riesce ad indirizzare l'anteriore anche alzandolo per alcuni istanti in maniera molto semplice e riprende la nostra salita proviamo ad accelerare il ritmo per vedere come si comporta la neuronon su salite non particolarmente tecniche per quanto riguarda il fondo ma sicuramente tanto tanto guidate tornantini stretti devo dire si fanno veramente in modo semplice ed intuitivo vedete come si alza l'anteriore con facilità e si riesce a indirizzare dove si vuole non dovrei dirlo dovrei essere abbastanza imparziale nelle mie ricensioni ma questa bici mi sta piacendo davvero tanto probabilmente anche merito dei sentieri che veramente si adattano in modo eccellente alla bici ma anche la bici è dinamicamente una bomba iniziano anche i primi giolli in salita davvero alto ritmo quest'oggi proviamo 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 ragazzi penso non sia difficile comprendere il perché non sono riuscito a portarvi con me durante l'ultima discesa ma vi assicuro ci siamo tanto tanto divertiti ma che bici è la nuova Canyon Neuronon? beh è una vera in mountain bike da trail restituisce divertimento, ne restituisce veramente tanto e questo sia in salita che in discesa è una bici tutto sommato facile appena montata in sella ci siamo subito trovati bene subito a nostro agio quindi una bici che dimostra un equilibrio geometrico davvero davvero molto buono lo dicevo anche nel video prima dovrei essere imparziale ma ragazzi con questa bici mi sono veramente tanto tanto divertito soprattutto qui nei sentieri di massa marittima che ben si sposano con le caratteristiche della nuova Neuronon e io intanto ragazzi mi vado a riparare perché continua a piovere ciao